ciao arrivo, solito controllo se ci siamo e funziona tutto quanto l'ho messo storto questa cosa, ma voi mi perdonerete ok, allora ciao a tutti e a tutte intanto sono giorni molto bui, però continuiamo quello che abbiamo sempre fatto ovvero fare divulgazione di, speriamo, belle letture e nuovi spunti sto pensando, ve lo dico proprio molto estemporaneo a un incontro online fra un po' con una bibliografia che ci aiuti un po' a decodificare la situazione che si sta verificando in Russia e in Ucraina in Ucraina per colpa dell'invasione russa solo che molti testi chiaramente sono andati in ristampa in questi giorni perché non siamo gli unici che vogliono capire e quindi appena capisco la disponibilità vi do contezza appunto di questa idea che ho detto ciò lunedì abbiamo fatto l'incontro con il nostro gruppo online su Joandidion che è stato sempre super bello e i prossimi incontri li ricordo velocemente saranno 7 marzo incontro per i grandi staccanovisti, no scherzo che si sono cimentati con Agnientare di Wellback un mattone in tutti i sensi nel senso che sarà un libro che pesa non ha preso un chile e mezzo mi sa che l'abbiamo anche pesato è una cosa pesantissima e a me poi è piaciuto tanto quindi non l'ho assolutamente trovato pesante e invece il 21 marzo parliamo di Lanterna in Volo anche lì parliamo di Cina contemporanea che quella sarebbe molto da capire soprattutto in questo periodo e ne parleremo anche con i traduttori del libro quindi insomma siateci se volete scriveteci a libreriabiblio.gmail.com altre due comunicazioni la prima ovviamente mi sono vedete come sono messa no scherzo la prima su Telegram abbiamo un canale che si chiama Libraia Biblio e ogni tanto lo ricordo perché lì ci sono dei contenuti che non passano sugli altri canali social che abbiamo quindi se vi va ci trovate lì scrivendo appunto Libraia Biblion e grande contenuto di Telegram scherzo è la i video tematici che mi diverto a fare ogni tanto con dei percorsi di lettura e che poi vengono integrati da tutte le altre persone iscritte al canale poi facciamo un elencone di libri che riguardano un tema questa è una cosa molto carina che mi diverte molto poi ci sono tante altre cose e la terza cosa ed è anche una delle più importanti è che da marzo ricominciamo a fare finalmente gli incontri con gli autori e con le autrici in libreria ne abbiamo tre a marzo ve ne parlerò man mano vi presento però stasera già il primo che sarà il 10 di marzo alle 21 perché diciamo che è un incontro teniamo molto a tutti ma questo in particolare ora sto sempre guardando che si veda tutto ora capirete perché perché abbiamo con noi dato che viene in Italia vorrei dire che viene solo per noi ma insomma viene per fare una serie di presentazioni partendo da Book Pride a Milano Natalia Garcia Freire l'autrice di Questo mondo non ci appartiene edito da Sur libro di cui vi ho già parlato lei è un'autrice che viene dall'Equador classe 1991 esordiente con questo libro segnalato dal New York Times nel 2019 quando è uscito in lingua originale come uno dei migliori esordi in lingua spagnola dell'anno e quindi noi siamo veramente molto orgogliose di averla qui tradurrà chiaramente Natalia Giulia Zavagna che chi ha fatto con noi il gruppo online sulle cattive conosce perché è traduttrice ed editor dallo spagnolo per Sur e è un libro particolarissimo il canto il lamento di un figlio adulto verso il proprio padre in particolare una volta tornato nella casa dell'infanzia da cui mancava da tanto tempo poi scopriamo perché durante il libro con degli elementi molto scuri tinte molto scure ma anche un pochino surreale come ambientazione qui potrei dire grande cliché come tanti scrittori latinoamericani ma non lo dirò perché insomma lei ha una cifra proprio particolare credo sia stato questo che ha colpito tanto del suo esordio quindi insomma il 10 marzo viene Natalia Garcia Freire e noi siamo contenti di tanto di aprire con lei poi vi racconteremo invece gli incontri che verranno dopo e cos'altro se vi volete venire la libreria è grande quello che è ha i posti che ha quindi scriveteci a Granarola o chioccia libreria biblio o no libreria biblio in chioccia gmail.com dove vi pare su facebook su instagram dove volete per prenotare un posto è gratuito ovviamente però ci serve un po' sapere quante persone ci saranno bando alle ciance che poi sono anche parte importante del lavoro andiamo a vedere cosa è uscito questa settimana anzi prima vi volevo dire che sto leggendo leggendo due libri di Anir no per vari motivi in contemporanea fra cui questo che non avevo letto che è l'evento che di cui si è un po' parlato insomma fine 2021 perché il film tratto da questo libro ha vinto il festival di Venezia comunque se non conoscete Anir no conoscetela perché è un'autrice molto potente che ha fatto della sua biografia la sua opera letteraria è un interessantissimo modo secondo me di fare letteratura scrive tutti i libri molto brevi perché la sua scrittura è parecchio asciutta questo in particolare è poco più di 100 pagine e racconta di quando nel 1963 a 23 anni lei si è trovata a voler interrompere una gravidanza e a doverlo fare clandestinamente è un libro molto forte il tema è chiaro perché appunto è un libro su questo e su come sia stato frustrante trovare comprensione e anche affrontare questa cosa praticamente in totale solitudine è anche un libro di grande dolore fisico però è raccontato con la sua voce acquisisce un eco secondo me veramente incredibile quindi consiglio sempre a Nien e a No in particolare però adesso che lo sto leggendo questo libro qua adesso andiamo veramente a vedere le novità della settimana inizio da ciò che non è romanzo poi sui romanzi vi faccio una carrellatina questo libro stupendissimo che per cui ringrazio molto Marina di avermelo segnalato perché era un po' passato in sordina tra le novità si chiama visivamente Atlante delle immagini in movimento scritto e illustrato da Pietro Grandi edito direi quasi ovviamente perché è sempre quinto quarto che fa queste cose un po' particolari meravigliose ed è la storia spiegata e illustrata di tutti i chiamerei marchi ingegni chiaramente dal più semplice al più complesso che ci hanno portato poi a l'invenzione del cinema mi ha ricordato tantissimo non so se qualcuno di voi è stato al museo del cinema di Torino c'è proprio una sezione in cui in modo dettagliato si vedono tutti i step che hanno portato poi all'invenzione del cinema e questo libro un po' li ripercorre si va appunto dal diorama fino al teatro ottico passando per lo zootropio e il fenachistoscopio ed è fatto tutto così è proprio intanto è arrivata Paola questo libro che è bellissimo e quindi niente ovviamente anche per ragazzi perché poi spiega anche propri materiali per quelli riproducibili che servono per riprodurre queste queste diciamo rudimentali questi strumenti cinematografici anche se poi rudimentali non sono perché sono estremamente complessi dal punto di vista meccanico poi N.V.E.E.O. hanno fatto questo libro maledetto per noi librai siamo molto amanti della nostra stessa storia e della storia delle librerie che si chiama Storie dei librai e della libreria dall'antichità ai nostri giorni scritto da Jean-Yves Mollier eccolo qui è un libro sui libri e sui librai e sulle librerie racconta appunto come sono nati questi luoghi e come è nato il mestiere di libraio è anche scritto bello piccolo cioè nel senso è un saggio divulgativo ma molto serio e ci sono carino però vero e ci sono dentro le varie immagini sia quadri che fotografie è molto incentrato sulla Francia l'autore è francese ci sta e quindi beh è bello noi non possiamo che dire bello cosa volete cioè quando non so i motociclistici non chiedono i libri sulle moto è uguale e quindi è chiaramente pass cioè la prima parte sulle librerie antiche e la seconda sulle librerie moderne poi vado avanti con i saggetti non l'abbiamo presentato la settimana scorsa ma lo presentiamo adesso anche perché Marilu sarà con noi poi ad aprile vi racconteremo questo libro nuovo edito da Solferino di Marilu Oliva l'Eneide di Didone Marilu Oliva è una professoressa è una scrittrice una giornalista che vive qui diciamo a Bologna vicino alla libreria abbiamo già fatto una cosa con lei però online perché eravamo ancora in pandemia la presentazione di Biancaneve nel novecento lei prima di Biancaneve nel novecento che è il suo ultimo romanzo aveva scritto un libro sull'odissea vista da Circe Penelo Pecalipso e le altre continua il suo percorso alla riscoperta dell'epica con appunto un libro su l'Eneide visto però dal lato di Didone grandissima regina trattata come sappiamo dal nostro prode Enea Enea personaggio peggiore dell'epica secondo il mio modesto parere proprio vabbè io sempre team Ettore quindi team Iliade mi piacerebbe che tutti vedessero l'epica così con questo grande coinvolgimento che ho sempre avuto fin da piccolissimo e cosa volevo dire di Marilu niente lei è una scrittrice molto brava soprattutto molto attenta e precisa e sta facendo questa operazione di riscoperta del classico non solo poi nella narrativa come questo libro qui ma anche nei libri scolastici perché ad esempio lei ha appena un paio d'anni fa credo fatto insieme ai suoi colleghi una nuova edizione dei Promessi Sposi con un apparato critico molto non viene una parola inglese come si chiama dice friendly cioè adatto diciamo così ai ragazzi delle superiori soprattutto anche ai ragazzi diciamo degli istituti tecnici quindi che prova coinvolgere molto i ragazzi sulla storia appunto del Manzoni quindi bello strumento sia scolastico che assolutamente di piacere che un modo un po' per riscoprire il classico poi lei è molto attenta al mondo femminile quindi anche questa riscoperta del classico in chiave femminile insomma sta facendo un lavoro interessante poi insomma il suo primo libro lei l'ha pubblicato molto prima che la canzone di Achille venisse fuori con questo grande successo fra i giovani quindi spero che anche questo successo della mitologia in forma narrativa dell'epica non solo della mitologia le porti anche molta fortuna insomma che questa sua operazione funzioni ancora meglio il libro esce con una stupenda copertina dorata opaca però opaca non rosa a propos vabbè dopo continuo con i saggi ma dato che ho citato le copertine non posso che farvi vedere la copertina lucida della settimana che da dove ci viene fuori chiaramente dalla nave di Teseo lo cito solamente perché vi do notizia che nave di Teseo lo sappiamo già sta pubblicando in italiano tutti i romanzi di O quelli di cui hanno pensato fosse opportuno acquisire i diritti di Abdul Razak Gurnah autore premio Nobel 2021 originario di Zanzibar vive in Inghilterra in Regno Unito da tanto tempo dopo il primo libro appunto che hanno pubblicato sotto Natale che si chiamava sulla riva del mare arrivano con Paradiso questo è invece un romanzo di formazione ambientato in Africa mentre invece sulla riva del mare era una storia di migrazione verso il Regno Unito e ovviamente bellissima copertina lucida con costa arancione stavolta sapete che scherzo Leonardo di Tesero ha nel suo catalogo vari fra i miei autori prediletti non ultimo il nostro caro Michel vado un po' avanti e indietro tra saggi e romanzi ormai o stasera va così perché ho visto un'altra copertina lucidissima quindi non posso che farvela vedere dopo le ultime sono praticamente tutte opache anzi un'e mezza e mezza non scherzo ma in questa cosa con le copertine un altro giorno una signora è venuta a chiedermi un libro e mi ha detto letteralmente vorrei il libro lucidissimo il giorno dopo la diretta e io ho capito di cosa stava parlando gag bellissima e niente allora un'altra copertina lucida di invece un'autrice che io adoro lo sapete già non devo dirvelo primo sangue di Amelie Notom il suo trentesimo romanzo arriva in Italia come al solito per Voland con sempre come al solito una Amelie Notom in una posa da Amelie Notom in copertina pose che solo lei può gestire ma chiunque altro sarebbe veramente strano in una posa da San Sebastiano e sì cioè una specie di sì tipo però con i coltelli vabbè una cosa un po' tra circo e mistico e con questo adesso a parte gli scherzi con questo libro Amelie Notom ha vinto il premio il Prix Renaudot che è il premio francese che viene dato nello stesso giorno poche ore dopo al premio Boncourt sostengo io adesso sto leggendo il libro però che è bellissimo come tutti gli altri io sostengo che sia un premio anche alla carriera di Amelie Notom che non si può far finta di insomma di non conoscere oltre che al romanzo in sé Primo Sangue è un romanzo che lei dedica a suo padre e ne racconta la storia in prima persona cioè l'io del romanzo è il Patrick Notom il padre di Amelie e ad ora io sono indietro ho letto qualche pagina parte proprio da quando nasce anzi sì no da quando nasce perché lui nasce il padre muore poco dopo e quindi insomma della sua infanzia ha cresciuto dalla madre e dalla nonna e poi lui diventa un diplomatico come sappiamo dagli altri libri di Amelie Notom e quindi credo arrivi fino appunto i primi fino a credo quando lui ha 28 anni perché l'incipit si svolge in quel momento non vi dico di più è sempre lei nel caso me lo stiate chiedendo però la lei l'Amelie Notom biografica non quella di storie un po' perturbanti particolari mi farà piacere sapere che l'altro ieri stavo cercando dovevo fare un po' di ricerche bibliografiche per una cliente mi è capitato sotto mano una i 16 no scusami le 40 donne da leggere assolutamente nella vita 40 scrittesi donne del novecento e c'era anche Amelie perché ormai direi che grazie eh insomma c'era c'era Virginia Wool c'era un po' no beh ragazzi lei si è inventato un genere non la voglio paragonare assolutamente a Virginia Wool cui non paragonerei mai nessuno per gratitudine verso gli altri perché sono paragoni tremendi però devo dire che negli anni 2000 perché mai li abbiamo passati da un po' Amelie Notom è sicuramente una delle scrittrici che merita attenzione come a dire no sì sì assolutamente però bella questa letteratura francese se vogliamo parlare di questo ma faremo una diretta doc magari avremo proprio da parlarne secondo me della letteratura francese degli anni 2000 perché veramente di un livello altissimissimissimo beh sì che devo dire cioè ancora io me lo chiedete vabbè e passando invece verso gli Stati Uniti è uscito per la collana di Black Coffee che si occupa più della saggistica del racconto degli Stati Uniti questo libro molto curioso su una leggenda del country ma non solo della musica del folklore proprio degli Stati Uniti punto che è Dolly Parton si chiama Una forza della natura Dolly Parton e le donne delle sue canzoni l'autrice è Sarah Smarsh che per Black Coffee aveva già pubblicato Heartland un bellissimo reportage sul Kansas e su come appunto la quel paese fosse la riserva agricola di tutti scusate quel paese quello stato fosse la riserva agricola del paese ma al contempo sia uno degli Stati più poveri degli Stati Uniti e qui invece Sarah Smarsh che è una fantastica giornalista scrittrice si cimenta in tutt'altro genere quindi a proposito di donne del novecento e del duemila sicuramente Dolly Parton non nella letteratura va annoverata prima leggevo tipo tre o quattro delle sue canzoni più famose cioè altro che sia Ely ragazzi mamma mia ma sto solo a pensare a Will Always Love You che è un tipo e vabbè altre canzoni che hanno fatto la storia della musica sempre negli Stati Uniti rimaniamo per la novità NN di questa settimana copertina rigorosamente opaca e anche molto bella e anche molto bella come al solito si chiama Una Grande Gloriosa Sfortuna di Josh Ritter dato che io ho degli ottimi collaboratori collaboratrici l'hanno già letto e anche dei libri un po' prima chiaramente è stato già letto dai nostri insiders e mi dicono che è un romanzo molto grazioso una storia di formazione ambientata nei boschi dell'Idaho in cui il protagonista è appunto questo ragazzo che realita un terreno che pare essere maledetto ed è finalmente posso dire un romanzo abbastanza leggero cioè lo dico in modo lo dico in modo molto molto positivo perché di solito presentiamo sempre delle gran disgrazie e questo certo ci sono delle morti ok però è un libro leggero e se vi piacciono queste ambientazioni un po' alla Walden appunto di Toro cioè proprio a contatto con la natura romanzo di formazione di un ragazzo che cerca di mettere in piedi un mestiere un proprio rapporto con la terra con col futuro questa è un'ottima un'ottima opportunità di lettura e si chiama Una grande gloriosa sfortuna finisco i miei libri per oggi questa cosa è fatta perché io adesso tra un po' vado e dopo Paola comincia e non posso che farvi vedere anche perché mi sono ricordata che ve lo volevo fare vedere ho detto il titolo poi era quel giorno che abbiamo fatto la diretta di sabato mattina mi sono dovuta interrompere perché abbiamo finito questo lo dicevo prima sto nelle mie mille idee pensando di fare un gruppo online con una bibliografia su Russia ucraina per ho sentito esatto per cercare solo che metà della roba è in ristampa quindi dobbiamo capire tra l'altro Gimerina mi ha detto che c'è un diario ucraino scusate un quaderno ucraino di Igor che non conoscevo ne ho sentito parlare ma l'ho letto in qualche articolo insomma ci sono un po' di cose che ci piacerebbe leggere insieme poi magari ognuno non legge tutto si leggono alcune cose e questo sicuramente ci entrerà è un'uscita di un paio di settimane fa di Keller nella loro collana reportage si chiama Orsi Danzanti di Witold Zablonski già vincitore del Penn Award per il suo altro reportage sulla Turchia lì sottotitola Storie di nostalgici della vita sotto il comunismo e prende spunto da questa usanza degli Orsi Danzanti che era un'usanza dei popoli bulgari sotto al comunismo di alcuni popoli nomadi che addestravano gli Orsi a stare in piedi a muoversi a danzare quando il regime è caduto questi Orsi sono stati liberati sono messi in delle riserve ma quando vedono le persone si rialzano per ballare molti molti anni dopo e quindi questa immagine è rappresentativa da Bronski la usa per parlarci appunto di tutte quelle persone che nonostante abbiano avuto chiaramente cioè il comunismo è stato prima il sogno e poi l'incubo lo stiamo vedendo in una sua tremenda deriva e stanno praticamente vivendo ancora nella nostalgia di questo regime perché loro ci avevano trovato una pace o una fortuna e secondo me era già un libro interessante in questo momento lo diventa ancora di più non perché sia strettamente legato chiaramente ai fatti di queste ore ma perché può essere molto utile per costruire un contesto storico soprattutto attorno alla Russia all'ex blocco sovietico e ai paesi che ci stanno vicino e quindi niente ve lo rifaccio vedere si chiama Orsi Danzanti tutti i reportage di Keller sono veramente molto molto belli e questo anche qui i miei insider che l'hanno già letto sono già passate due settimane volete che qualcuno non l'abbia ancora letto mi dicono che mi dicono che questo è proprio molto molto interessante e illuminante su alcune questioni bene bene tu sei in perfetto orario margherita manca due minuti alle sette e mezza margherita deve scappare perché fa anche faccio anche altre cose altre cose se riapriamo un teatro dopo molto tempo e quindi e quindi vado e quindi va vi racconto altre due o tre cose poi dopo vado poi anch'io e tu salutaci e noi ci vediamo domani la prossima settimana esatto e noi ci vediamo domani ciao allora quattro libri continuo con gli adulti poi magari in coda vi faccio vedere velocissimamente due cose per i bimbi allora assolutamente tre libri che non si possono non citare tra le novità di questa settimana perché sono autori molto amati e molto insomma anche attesi allora il primo è di un'autrice che anche noi abbiamo amato è stata ospite in alla Biblion presentare sul romanzo precedente che si chiamava Dio Fantasmi e che è stato anche finalista al premio Strega due anni fa direi e lei è Nadia Terranova scrittrice siciliana di Messina più esattamente ha ambientato anche questo libro nella sua terra però con in un'ambientazione un po' particolare cioè durante e subito dopo il devastante terremoto che distrusse la città di Messina e di Reggio Calabria a inizio del novecento quindi 1908 il libro si chiama Tre Malanotte come il suo precedente edito da Einaudi nella collana stile libero e qui è un romanzo di da quello da quello che ho visto un romanzo di relazioni di di sentimenti su uno sfondo di una tragedia che di solito accade spesso nei romanzi che un evento tragico porti poi a disvelare la natura umana la sua necessità di relazione e e così anche relazioni che possono diventare improbabili sono due persone distanti prima di questo avvenimento una ragazza che vuole sfuggire sta facendo questo viaggio in Sicilia ma perché vuole sfuggire a un matrimonio che le vorrebbe far fare il padre con un ragazzo di buona famiglia che lei però non vuole e quella di un ragazzino di 11 anni Nicola che invece si vorrebbe liberare di una madre che è molto oppressiva molto iperpresente che lo soffoca un po' succede che appunto avviene questo terremoto devastante e tutte le persone sono perse nei loro nei propri punti di riferimento sia fisici che anche relazionali emotivi e si incontreranno queste due persone e costituiranno una relazione assolutamente improbabile tra una ragazza di 20 anni e un ragazzino di 11 per cui un'amicizia o una relazione non abbiamo ancora letto il libro che appunto li fra virgolette li salverà o comunque gli darà una chiave per un futuro che possa essere diverso quindi Nadia Terranova tre malanotte per Einaudi altra uscita vabbè qua potremmo dilungarci ore a parlare di quest'autore è uscito l'ennesimo Georges Simenon ovviamente sempre per Adelphi questo libro nuovo si chiama Il dottor Bergelon Bergelon non lo so se alla francese o all'inglese uno dei Simenon che non sono che non sono gialli e quindi non fanno parte della narrativa di Maigret è uno dei suoi romanzi e anche qui Simenon come fa di solito nei suoi appunto in questi romanzi che non hanno una trama noir va ad indagare le maschere e quello che ci sta sotto le maschere dell'umana natura e della sua spesso pochezza qui si parla di questo dottore che fa un accordo con un altro dottore di nome il dottor Bergelon che fa un accordo con il dottor Mandalin che è un chirurgo fanno un accordo per cui lui gli dirotta le persone su cui deve intervenire e poi faranno un po' 50-50 con i proventi di questi interventi succede che arriva questa famiglia dove c'è un bambino che pardon c'è una mamma partoriente che deve partorire che però ha dei problemi insomma succede un patatrac muore la mamma e il bambino il padre di questa famiglia è imbufalito se la prende con il dottor Bergelon perché l'ha condotto da questo chirurgo si crea questa situazione in cui appunto di pericolo di senso di colpa di morale non così non attesa che porterà il dottore a così a far scelte e a rivedere anche tutta la sua vita quindi un solito come è bravissimo a fare si menon una solita analisi di quello che è la morale i valori morali appunto le nostre maschere le nostre debolezze cosa che sa fare magistralmente di fronte ad avvenimenti che ci ci ribaltano un po' la vita quindi per gli amanti ma direi si menon va letto a prescindere il dottor Bergelon per Adelfi poi altro romanzo attesissimo autore che negli ultimi anni ha avuto un grande successo in Italia infatti lui poi è un amico dell'Italia ci viene spesso sto parlando di Escolnevo autore israeliano autore del famosissimo Tre Piani da cui è stato poi tratto anche il film di Nanni Moretti uscito quest'autunno sì autunno inverno se mi posso permettere non andate a vedere il film perché è assolutamente molto più brutto del libro Nanni Moretti quasi irriconoscibile e ho pensato anche che avendo letto il Tre Piani traslare la vicenda da Tel Aviv dove si svolge il libro originale in Italia sia stata un'idea orrenda perché nonostante si parli di storie individuali Tre Piani ha una connotazione molto israeliana cioè proprio la vita di queste persone è abbastanza tipica di quel luogo e quindi probabilmente traslarlo in Italia ha tolto quell'aura di veridicità che è appunto il libro in questo libro si chiama Le Vie dell'Eden è come gli altri pubblicato da Neripozza e Escolnevo riprende un po' la struttura che aveva in Tre Piani cioè incrocia le tre storie in cui ci sono poi quattro personaggi incrocia tre storie per anche qui andare a indagare l'umana natura come appunto come Buassimenone anche se secondo me a mio parere non ha lo stesso talento però è comunque un ottimo scrittore qui sono tre storie parallele una è di un musicista che si trova sulle è collegato in qualche modo a un ragazzo che muore in un incidente alla paz durante un viaggio in Bolivia in modo abbastanza misterioso e questo musicista Omar appunto non si sa bene in quale modo è collegato ma c'è qualcosa che c'entra con questo personaggio con questa morte e poi abbiamo un un dottore che si chiama Asher Caro che è un primario un signore abbastanza avanti che ha con cui che instaura una relazione con questa giovane donna e non parlo di una relazione amorosa c'è qualcosa che anche qui è da scoprire che lega queste due persone ma che non ci ha dato sapere è una una coppia di sposi che ogni settimana si reca in un frutteto e fa questa cosa strana cioè camminano per un po' fino a che il marito si inoltra nel frutteto lasciando la moglie ad attenderlo non si sa anche qui che cosa succede ma appunto c'è questa regolarità quindi sono tre storie tutte da scoprire che vanno appunto a scavare in queste relazioni in queste vite da scoprire struttura appunto come nevo lui è molto bravo a fare a costruire queste queste non so come dirle queste panoramiche di persone che alla fine si congiungono e danno un senso finale al libro tutto da leggere direi e poi lui ha tantissimi estimatori l'ultimo libro per adulti che invece vi voglio presentare è un libro che non è un nome iperconosciuto come quelli che vi ho presentato però avevo letto il libro precedente mi era molto piaciuto lei è Aix de la Cruz è una scrittrice spagnola e esce con la linea del fronte edito da come il suo libro precedente Giulio Perrone editore Aix de la Cruz è una giovane scrittrice che scrive anche in un modo abbastanza particolare molto fotografico cioè proprio a flash sono quei tipi di libri che non hanno una scorrevolezza di racconto ma sono tanti piccoli flash che alla fine vanno a comporre come un puzzle la storia la storia questa è anche molto particolare perché è quella di una giovane donna che deve preparare la sua tesi di dottorato lei si chiama Sofia e si sposta appunto all'aredo in questo paesino perché deve indagare su scrive la tesi su questo scrittore a Reisel che è stato uno scrittore membro dell'ETA e quindi niente lei si rica lì proprio per indagare su questo scrittore ma anche perché il suo fidanzato è chiuso in una prigione proprio in questa cittadina quindi doppio motivo lei si accampa in una stanza da cui vede la prigione e in una sorta di autoreclusione e di così vuole mettersi un po' per cercare di provare quello che sta provando il suo fidanzato si mette un po' in nelle sue stesse situazioni quindi accetta la reclusione accetta di vivere un po' miseramente accetta la sporcizia accetta cerca proprio di mettersi in quei panni e da lì e da questo piccolo mondo chiuso indaga indaga appunto l'idea di questo fidanzato in prigione e anche riflessioni su quello che poi invece avviene fuori a livello storico perché qui ci sono le lotte dei Paesi Baschi le lotte di indipendenza ci sono i processi di formazione proprio i temi che anche in transito Exa della Cruz aveva indagato che sono un po' il suo il suo mondo anche perché lei è proprio molto giovane credo che abbia una 30 35 anni quindi è un'autrice molto particolare ma che sicuramente lascia dei semi mentre la si leggi la linea del fronte è per Giulio per un editore prima di lasciarvi volevo farvi vedere tre cose belle per bimbi che sono arrivate in libreria proprio oggi allora questo è uno stupendo albo tanto per cambiare edito da terre di mezzo Margherita aveva letto quando ancora non era stato pubblicato in Italia che era stato segnalato come uno dei più belli albi usciti negli Stati Uniti l'anno scorso finalmente è uscito in Italia appunto per terre di mezzo e si chiama ovunque la natura ed è un tra l'altro con delle immagini bellissime stile acquerello vi faccio vedere queste bellissime ritratti ed è una riflessione sulla natura su come noi ce ne stiamo un po' distaccando e ci dimentichiamo di lei magari la trattiamo umane e allora la natura ci ricorda che esiste ci ricorda che esiste attraverso tanti piccoli particolari che ci dona quindi possono essere i raggi di luce alla finestra oppure i trucchi di magia delle farfalle oppure un bel tramonto o un animalino che si intrufola in casa e lo zampetio degli uccelli ed è veramente veramente poetico con queste immagini molto belle quindi un credo che sia proprio carino anche per i bambini nella sua semplicità per fare notare la bellezza della natura adesso se ne ci sono un sacco di progetti che vengono fatti qua nelle nostre zone sul contatto con la natura per i bambini direi che questo ci entra a propria gamba tesa proprio bellissimo veramente delizioso ovunque natura che prende tutto il nostro mondo per terre di mezzo le autrici sono Deborah Underwood e Cindy Derby poi ci è venuta a trovare oggi la nostra amica Pulce Edizioni comportandoci un po' di novità loro stanno facendo veramente un grandissimo lavoro io sono molto contenta perché sono amiche e credo che davvero stiano dando un contributo alla letteratura per i ragazzi importanti loro stanno lavorando tantissimo adesso sulla riscoperta di albi potremmo chiamarli vintage comunque di storie anche pubblicate addirittura all'inizio del novecento che sono andate perdute e che hanno invece una sono veramente bellissime sia nelle storie magari un po' classiche sia nell'illustrazione e quindi hanno pubblicato questi due libri molto belli che sono uno felice come un re ed è di Robert Louis Stevenson l'autore di Isola del Tesoro che è una raccolta di piccole storie che sono appunto piccole poesie piccoli pensieri piccole storie con la grafica che potete riconoscere assolutamente assolutamente antica però veramente molto molto carino ci sono delle cose anche se volete un pochino desuete però è veramente graficamente molto molto bello una riscoperta di storie classiche che possono andare alterniamo pagine in bianco e nero con dei personaggi a qualche foto invece a qualche disegno a colori che sono poi dei dipinti bellissimi sull'autore non abbia l'autore non ha certo bisogno di presentazioni e le storie sono belle quindi questo ha dato anche a bambini da leggere anche molto spezzettato perché sono tutte piccole poesie filastroche piccoli racconti a volte anche in rima quindi molto molto bellino felici come un re a child's garden of verses quindi anche appunto versi di poesia per robert louis stevenson edito da pulce l'altro sempre nello stesso stile graficamente delizioso ve lo faccio vedere si chiama storie di tanto tempo fa di frederick richardson questo libro è stato pubblicato se non ricordo male nel 1923 negli Stati Uniti anche qui siamo in una raccolta di storie che conosciamo già perché ci sono anche delle storie classiche per esempio la gallinella rossa che si trova anche in tante altre edizioni ma volevo vedere un altro la casa sulla collina però accompagnate da queste immagini molto belle questi dipinti veramente veramente belli insomma sono tutte legate agli animali qua abbiamo una casa piena di ursi molto carino proprio bellino bellino davvero poi loro hanno anche questa attenzione siccome le ragazze di pulce vengono dal mondo della libreria e sanno poi quali sono le richieste da parte dei bambini e dei genitori hanno una grande attenzione anche al carattere che viene usato che a volte non è congruo rispetto all'età a cui vogliamo dare i libri queste sono scritte in grande quindi possono essere lette comodamente da un genitore assieme al bambino ma può essere anche letto dal bambino quando inizia la lettura tanti dei loro albi sono scritti in stampatello maiuscolo proprio per per aiutare i bambini nelle prime letture sugli albi brevi e anche utili per bambini che hanno delle difficoltà di apprendimento quindi bambini dislessici o che hanno un po' di ritardo nella comprensione dei testi il fatto di usare un carattere grande o a direttore stampatello non come in questo caso ma in tanti loro albi è sicuramente vincente rispetto a quelli che sono poi le necessità di un bambino che si approccia alla lettura attorno ai 5-6 anni quindi brave 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 le ragazze di pulce questi sono due bei libri di storie tradizionali che dice quando una storia comincia con c'era una volta nella terra felice del facciamo finta che quindi un sorriso che viene dal passato bene direi che anche per questa settimana di cose interessanti ce ne sono stanno uscendo veramente un bel po' di cose anche perché la prossima settimana ci sarà a milano il book pride che è la fiera dell'editoria indipendente quindi gli editori indipendenti hanno fatto uscire parecchie cose per presentarle alla fiera finalmente si torna a una fiera in presenza noi andremo andremo a vedere un po' i nostri editori amati a scoprire cose nuove quindi poi vi racconteremo grazie a tutti e ci vediamo la prossima settimana ciao ciao